Musica Telespettatori di Seila TV, buonasera, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione di Seila TV News. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le notizie principali di questa giornata. Doppio infanticidio di Pedrengo, la madre si avvale della facoltà di non rispondere alla giudice. Omicidio di Nembro, fuori pericolo, la madre ferita, oggi ascoltata dal pubblico ministero, ha raccontato gli attimi di terrore vissuti. Prossimo sindaco di Bergamo, l'avvocato ed ex assessore Andrea Pezzotta accetta la candidatura per il centrodestra. Piazzale Alpini sarà recintato, una misura per la sicurezza dell'area, spesso teatro di degrado e criminalità, ma è polemica. Al via il Dolizzetti opera mai così ricco di appuntamenti, ben 55 gli eventi in cartellone. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca e riprendiamo le notizie di questi giorni con il doppio infanticidio di Pedrengo. Oggi la madre è stata ascoltata dalla giudice ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Monia Bortolotti, arrestata dai carabinieri con l'accuso di aver ucciso i suoi due piccoli figli, ha deciso di non parlare al giudice. La ventisettenne che si trova piantonata ed osservata 24 ore al giorno nella cella di sicurezza del Papa Giovanni di Bergamo, su consiglio dell'avvocato difensore, si è avvalsa della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia. Presente all'atto anche il pubblico ministero che non ha potuto far altro che registrare il diniego della Bortolotti. 200 pagine per convalidare la tesi della procura. La due volte mamma, soprannominata mia, avrebbe ucciso per soffocamento la piccola Alice di appena 4 mesi e 11 mesi dopo il piccolissimo Mattia, 60 giorni dopo il parto. A distanza di meno di un anno quindi i soccorritori si sono trovati davanti la stessa scena, con due neonati morti per asfissia e soffocamento ed i loro genitori apparentemente in disperazione per quanto accaduto. La difesa ha chiesto la revoca dell'ordinanza di custodia cautolare e in subordine gli arresti domiciliari a casa del padre. Il GIP al momento si è riservata di decidere. Nel mentre emergono altri particolari della tragedia. Il giorno della morte del maschietto, Mia disse a tutti di aspettare una visita da un'amica, ma di accordi non risulta esserci traccia. Per gli inquirenti il chiaro segno che volesse rimanere sola con il bambino per mettere in pratica gli intenti. Alla base anche la mal sopportazione del pianto dei piccoli, un aspetto che rende ancora più incredibile l'intera vicenda. Ancora cronaca a Nembro per l'omicidio del padre e il tentato omicidio della madre. È sotto arresto il giovane e oggi la madre che è uscita dall'ospedale è stata ascoltata dal pubblico ministero e ha raccontato quegli attimi di terrore. Ha rischiato di morire anche lei, Mariangela Stella, colpita dal coltello del figlio che aveva appena inferto dei colpi fatali al padre Giuseppe, 71enne, morto nella sua abitazione a Nembro dopo l'aggressione di Matteo Lombardini. Ferite al collo, all'addome e dalle mani, con quelle ha disarmato il figlio prima che potesse compiere un altro omicidio. Ieri il colloquio con il pubblico ministero in procura a Bergamo per raccontare i fatti vissuti quella sera. Matteo era in cura per problemi psichici. In passato era già stato protagonista di un'aggressione sempre al padre e dalla sorella Chiara ma nulla poteva lasciare intravedere quello che poi in realtà è accaduto. La 66enne ha confermato quello che i carabinieri avevano ricostruito. Tutto è accaduto in pochi minuti, poi la richiesta d'aiuto della donna ad un vicino ma per Giuseppe non c'era più nulla da fare. L'omicida, ricoverato in detenzione sotto stretta sorveglianza al Papa Giovanni ha raccontato al giudice di aver sentito delle voci che gli suggerivano di ammazzare. In quel momento aveva davanti il padre e così l'ha fatto. Voltiamo pagina, andiamo a Zogno dove il muro di cinta del parco della storica Villa Pogliani che ospita la casa di riposo è franato sulla carreggiata della strada sottostante. È successo questa mattina intorno alle 11. L'ex statale 470 è stata chiusa al traffico che è stato deviato sulla variante di Zogno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici con un escavatore che ha provveduto a liberare la carreggiata dai detriti. In campo anche carabinieri e polizia locale per regolare il traffico. Il muro è stato messo in sicurezza e la strada, una volta sgomberata da terra e sassi, è stata riaperta intorno alle 17. Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina prima dell'alba è accaduto sulla strada Francesca all'intersezione tra Urnano e Spirano. Un furgone e un'auto si sono scontrati frontalmente. A bordo dei due veicoli c'erano quattro persone, due sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali di Seriate e di Bergamo. Qualche disagio sulla circolazione con il traffico rallentato per i rilievi della polizia locale e l'intervento dei vigili del fuoco. Ed ora invece ci trasferiamo a Bergamo e parliamo di politica perché la gara a definire chi sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni per la città nel centro-destra forse sta trovando una quadra. Andrea Pezzotta, ex assessore e attualmente avvocato penalista, ha detto sì. Il centro-destra sembra vicino a sbrogliare la matassa per il candidato che correrà nel prossimo giugno alla carica di sindaco di Bergamo. A farsi avanti, o meglio, a non tirarsi indietro, è l'avvocato Andrea Pezzotta, già assessore della giunta Tentorio, da sempre nell'area moderata e conservatrice della Bergamo politica. Moderato anche lui nei modi e nei tempi. Gli artigli li riserva nelle aule dei tribunali dove esercita la sua professione da penalista. Fino a pochi mesi fa, poco incline a partecipare alla gara da candidato post-Gori, ora disponibile ma nulla di più. Sarebbe, ma il condizionale è d'obbligo, uno dei nomi di Fratelli d'Italia che renderà ufficiali le proposte a giorni. Sul fronte Forza Italia, dopo il no grazie di Giorgio Iannone, restano Gianfranco Ceci e Carlo Saffioti, ma soprattutto Alessandra Gallone. È l'ex senatrice che dovrà decidere se fare passi indietro o in avanti rispetto alla proposta Pezzotta. La terza via c'è, un ticket tra loro con la prima donna sindaco e l'avvocato vice. I posteri hanno i giorni contati, l'unica certezza è che comunque si sia in ritardo sulla tabella di marcia verso la conquista di Palazzo Frizzoni. E uno dei temi caldi anche per la prossima giunta è proprio quello della sicurezza. Intanto si pensa a Piazzale Alpini, che è un punto nevralgico della microcriminalità del centro città e si è pensato appunto di chiuderlo, di circondarlo proprio per la sicurezza, ma è scattata la polemica. Piazzale Alpini sarà ricintato. L'ha approvato il Consiglio Comunale di Bergamo su proposta della giunta, la quale ha stanziato 800.000 euro per finanziare l'opera. Obiettivo rendere più sicuro uno dei luoghi storicamente più degradati della città e solo da qualche tempo liberi da episodi di microcriminalità per la serie di concerti organizzati qui. Attorno al sindaco Gori però si è alzato un polverone. Primo, ancora, da parte dei residenti attorno al piazzale, vessati da 44 concerti estivi che da due stagioni impediscono loro di dormire la notte. 400 firme raccolte per dire basta, ma non è servito. Anzi, la recensione, che funge un po' da toppa, è peggio del buco, la musica. Lo dice chiaro Cesare Zapperi, che abbiamo ascoltato col doppio ruolo di residente e giornalista di lungo corso. Quello che va compreso è che nessuno è contrario alla rivitalizzazione di Piazzale degli Alpini. Bisognerebbe essere degli idioti per pensarlo. Quello che i residenti gli chiedono è equilibrio, nel senso che un mix di funzioni che rivitalizzano la piazza è benedetta e benvenuta. Se tu invece in pochi mesi, in tre mesi, concentri 40 concerti, tu fai una violenza alla vita delle persone, alla vita sia personale che lavorativa, che porta a delle reazioni opposte. La decisione ha generato poi un caos al politico in maggioranza, che si è spaccata in fase di votazione agli emendamenti. La delibera è passata per un solo voto, ma il dibattito avrà strascichi politici non indifferenti, soprattutto per il metodo con cui si è arrivati alla proposta. Nessuna condivisione né progetto concreto. Una scelta così rilevante su una zona centrale della città non può essere calata dall'alto, deve essere discussa con la città. E' un sindaco che non discute con la città. Una scelta così rilevante commette un grosso lano errore. Io capisco che Gori ormai sia alla fine del suo mandato e quindi lascia in eredità questo problema. Però ha fatto una forzatura per la quale ha evitato la fregatura per un voto solo. Ma non è stata una bella basita di politica secondo me. E da un'area centralissima di Bergamo riqualificata passiamo ad un'altra area, quella dell'ex Gress a Colognola che riprende vita grazie alla rigenerazione urbana di Gress Art 671. Per quasi cent'anni il complesso che fu della società della Gress a Colognola era sede di una delle più grandi produzioni di ceramica d'Italia. Una superficie di 60.000 metri quadrati in via San Bernardino che oggi rinasce grazie a Gress Art 671 che prende il nome proprio dall'ex fabbrica e dalla statale 671 che segna il confine sud dell'area, rafforzandone il legame con la città e la sua storia. Un luogo oggi dedicato al tempo libero e alla cultura con ristorazione, aree relax o per lo smart working e spazi espositivi. La prima mostra inaugurata oggi è Solar Punk una collettiva trasmediale dedicata al cambiamento climatico. È un luogo che un po' interpreta l'evoluzione in atto dei nostri stili di vita quindi è volutamente flessibile sia negli spazi architettonici che nella programmazione. È possibile appunto venire, aprire il computer, mandare una mail stare negli spazi del Gress Cafè che è il nostro bar oppure anche semplicemente leggersi un libro, fare un giro, vedere la mostra. È sì un luogo di produzione culturale ma è anche e soprattutto un luogo di aggregazione in cui svago, cultura, tempo libero e lavoro si intersecano. Un progetto promosso su iniziativa di gruppo immobiliare Fondazione Pesenti che pensa alla cultura come leva di rigenerazione dei luoghi della città e di sviluppo della comunità, tema centrale nell'anno di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura. Una rigenerazione rispettosa delle strutture e anche della storia di questo straordinario sedimento industriale quindi una ricucitura tra un passato secolare però con una proiezione in un futuro che deve essere molto moderno, molto visionario. Dal 2016 l'ex Gress vive un primo recupero con la realizzazione del palazzetto del ghiaccio Ice Lab e oggi con la fondazione di GressArt 671 si aggiunge un ulteriore tassello all'opera di riqualificazione dell'area che si unisce al più ampio piano di rigenerazione urbana che coinvolge luoghi un tempo industriali come Porta Sud e l'ex Reggiani dando loro una funzione di carattere sociale. Il piano di governo del territorio che abbiamo presentato nei giorni scorsi dice questo la città non deve più crescere consumando suolo verde, agricolo ma deve reinventare se stessa quindi ripensare i luoghi del passato e dare loro una nuova funzione. Ed ora invece parliamo di anziani secondo un'indagine della CGL la metà degli anziani bergamaschi vive situazioni di solitudine. Su 10.000 abitanti della provincia di Bergamo 2.500 sono anziani in percentuale si tratta del 25% della popolazione con picchi che in montagna raggiungono il 28% di questi la metà sono soli senza nessun familiare che possa prendersi cura di loro. La ricerca in realtà dimostra come il legame di rete familiare che nella società di alcuni decenni fa svolgeva gran parte anche del lavoro di cura delle persone più fragili tenderà ad essere sempre meno possibile quindi è necessario provare ad avere delle reti sociali in grado di assolvere a bisogni primari non necessariamente di cura. Eppure al momento le risorse dei comuni per l'assistenza agli anziani sono molto limitate in media ogni amministrazione spende 130 euro pro capite in città la spesa raddoppia e arriva ai 260 euro una cifra che va incrementata anche con altre risorse per prendersi cura dignitosamente dei più fragili in un contesto in cui la famiglia diventa sempre più marginale e le istituzioni sono chiamate ad assumere un ruolo di primo piano. Ancora una volta torniamo a parlare di sicurezza stradale purtroppo un altro incidente quello di Giuditta Carminati di 84 anni di Bagnatica che è l'ultima vittima ciclista coinvolta in un incidente mortale l'anziana è deceduta domenica pomeriggio a brusaporto travolta da un furgone all'incrocio tra via Lombardia e via Cà e noi abbiamo sentito su questo tema Claudia Aratti, presidente di Arribi che da tempo si occupa proprio della sicurezza sulle due ruote che dà qualche consiglio proprio per pedalare appunto in tutta sicurezza sulle strade bergamasche. Purtroppo ci sentiamo davvero di richiamare tutti a una maggiore attenzione specialmente in queste situazioni dove si incontrano delle intersezioni degli attraversamenti oggi più che mai è di fondamentale importanza per noi ciclisti renderci visibili e per gli automobilisti mi sento di dire di agguzzare la vista perché non è questo il caso ma troppo spesso capita ancora di intercettare ciclisti sprovvisti di dispositivi luminosi e ora viene buio presto e quindi moderare la velocità e soprattutto agguzzare la vista niente distrazioni al volante ma questo è anche previsto dal codice della strada è un invito ai ciclisti tutti quanti di dotarsi di tutto ciò che è previsto dal codice della strada e anche per noi vale lo stesso tanta attenzione l'invito alla prudenza e soprattutto specialmente nei casi in cui magari si tratta di persone la cui età non rende più così agili e pronti magari di dotarsi anche in questo caso magari non avrebbe cambiato nulla innanzitutto il casco quello sempre magari anche di uno specchietto retrovisore che evita di fare manovre brusche per voltarsi e guardare magari se sta sopraggiungendo qualcuno sono piccole pillole ma che mi auguro possano ridurre la possibilità di incidenti a tutti raccomandiamo la massima prudenza a tutti gli utenti della strada una bella notizia per la pizzeria inclusiva pizza di Bergamo che a meno di un anno dalla sua apertura in via Pitentino 6 si è aggiudicata il premio come migliore start up under 40 d'Italia all'interno dei retail awards 2023 la categoria best start up e next generation premia il talento e l'innovazione delle iniziative imprenditoriali giovanili nelle motivazioni del premio si legge pizza è un format innovativo staff di 12 persone di cui 7 con la sindrome di Down un progetto inclusivo e sostenibile allo stesso tempo le pizze sono realizzate con materie prime di origine vegetale ottenute da agricoltura genuina e senza sfruttare gli animali pizza è aperta a Bergamo ed è in apertura anche a Milano e allora dopo questa bella notizia chiudiamo la prima parte del nostro notiziario una breve pausa pubblicitaria ci ritroviamo tra pochissimo per spettacolo, cultura e l'Atalanta a tra poco ben ritrovati nella nostra seconda parte del telegiornale che apriamo con la cultura con lo spettacolo e vi portiamo al Donizetti per il festival Donizetti Opera che prende il via con tanti appuntamenti in cartellone il festival Donizetti Opera 2023 si preannuncia essere l'edizione più ricca di sempre dal 16 novembre al 3 dicembre il teatro bergamasco apre le sue porte al pubblico con 55 appuntamenti tra opere, concerti, film, mostre, incontri e attività per la famiglia la nona edizione comincia dalla Genesi con il diluvio universale di Donizetti seguito dal piccolo compositore di musica rivisitato in chiave moderna Alfredo il Grande e Lucia di Lammermoor al cuore del festival il 29 novembre Dies Natalis o per meglio dire giorno del compleanno di Donizetti una grande celebrazione con gli studenti in un tripudio di iniziative altra data degna di nota è il 2 dicembre dove per le strade di Bergamo verranno allestiti numerosi palcoscenici che ospiteranno vari concerti per festeggiare in anticipo il giorno di Natale e poi ci saranno le attività per le famiglie i talk su cantanti bergamaschi dell'Ottocento la proiezione di film tra cui il documentario Mike Allas mentre sullo sfondo rimane la mostra Tutta in voi la luce mia che mescola la musica del melodramma alle pennellate dell'arte creando un'opera al confine tra teatro e immaginazione Dal teatro allo sport con l'Atalanta sono ripresi ieri gli allenamenti con tutto il gruppo compatto verso la sfida di giovedì contro lo Sturm Graz in campo a Bergamo alle 21 da valutare ci sono solo le condizioni di Scalvini recuperato in Extremis contro l'Inter è rimasto un'ora in campo possibile un avvicendamento con Toloi che sarà squalificato in campionato dopo il rosso rimediato sempre contro l'Inter per il resto resta da stabilire solo chi scenderà in campo da titolare con ampi margini di manovra soprattutto in attacco l'Atalanta giocherà ancora in casa contro lo Sporting il 20 novembre con 4 punti la qualificazione sarà già decisa e la trasferta in Polonia ininfluente giovedì a dirigere l'incontro alla Gavis sarà il francese Jérôme Brissard andiamo ora a vedere quale tempo ci aspetta nelle prossime ore con le previsioni di Trebi Meteo un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo nella giornata di mercoledì la perturbazione si sposterà gradualmente verso le regioni meridionali tempo invece in miglioramento sulle regioni del centro sole assoluto protagonista sulle regioni settentrionali nel dettaglio ora la Lombardia sole prevalente nel corso della giornata di mercoledì segnaliamo solo la possibile formazione di banchi di nebbia sulle località di pianura nelle ore più fredde del giorno temperature massime che inizieranno a perdere qualche grado nel dettaglio ora la provincia di Bergamo nella giornata di mercoledì ampi spazi soleggiati come dicevo con un po' di foschia nelle ore più fredde della giornata sulle località di pianura temperature massime che difficilmente andranno oltre i 13-14 gradi nella giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione portando a qualche possibile nuovo fenomeno specialmente nella seconda parte del giorno con conseguente calo termico valori massimi infatti non oltre i 10-11 gradi uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni nel corso dei prossimi giorni tempo ancora tratti instabile nella giornata di venerdì tempo che poi tornerà a migliorare a partire dalla giornata di sabato con temperature che si manterranno pressoché stazionarie ma per ulteriori dettagli vi rimando come sempre all'app gratuita di trebi meteo è tutto per questa edizione non ci sono ulteriori aggiornamenti io vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti